Post partita di Ponte Cariga Corniglianese, al microfono di Settimana Sport Alessandro Scuzzarello, mister della Corniglianese. Mister, al termine della gara si può parlare di un punto guadagnato oggi? Beh, diciamo che abbiamo affrontato una bella squadra e alla fine, per come si era messa la partita, sicuramente un punto guadagnato. L'intera partita forse potevamo fare qualcosina di più, l'unica cosa, eravamo un po' rimaneggiati da tante assenze, però come dicono, sempre ai ragazzi, uno vale l'altro, per cui su quello non abbiamo anche su un ramarico, l'importante è l'imbattibilità ancora. Sì, 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 quello è importante per tutto, è importante essere sempre lassù, davanti a tutti e la prossima settimana andiamo a fare una partita con la rossiglianese dove cercheremo di mettere in campo il massimo per portare a casa i tre punti. Grazie, mister.